eccoci ancora per la seconda partita per la seconda prova della BTP dall'Hotel City di Caserta la partita che vi andiamo a proporre come vi avevo anticipato è quella di un derby pugliese tra Carmine e Staniero che è una prima categoria del 1983 testato al CSB Revival di Barletta contro un master anche lui pugliese anche di pugliese Agostino De Riccardis che è testato al al Casarano Club di Mario Aretano che saluto davvero con grande piacere Agostino De Riccardis del 1961 qui accanto a me diciamo proprio una chicca dal momento che si parla di un derby pugliese o un pugliese d'eccellenza accanto a me o accanto a me Croce Fisso Maggio buongiorno Fisso buongiorno a te buongiorno a tutti i nostri spettatori a parte di tutto lo staff di BTP da Libura sono due pugliesi Fisso tu li conosci molto bene entrambi sì sì li conosco molto bene Carmine è una prima categoria eccellente colpitore una dote bene o male che è ormai propria di tutti i pugliesi mentre Agostino De Riccardis è un giocatore sicuramente con più esperienza di straniero però sarà sicuramente un bel incontro sì io penso di sì anche perché sono due giocatori molto ostici e da premettere che giocano un biliardo molto impegnativo come ha detto dopo Canse non è che siano grandi colpitori però non sono sicuramente dei sciuponi giocano un bel biliardo sia uno che l'altro e soprattutto sono molto ostici come giocatori prima conclusione su questa frontale per Agostino De Riccardis che non sfrutta benissimo questo traversino non sfrutta bene a sua volta questo giro Carmine De Straniero che lo realizza troppo stretto e molto probabilmente non difende quindi occasione frontale questa ancora più nitida della precedente per De Riccardis che sfrutta molto molto bene sventaglina di prima attenzione 6 punti e difesa agli angoli meglio di così era difficile fare fisso penso proprio di sì ecco come ti ho detto Nicola guardano questi due molto più la rimanenza diciamo in gioco la messa che la realizzazione io avrei giocato 3 giri e mezzo lui ha giocato la sventaglina sul castello ha lasciato le due biglie nei settori opposti quindi una buona difesa centrale addirittura un po' di fortuna ha lasciato la sua biglia attaccata alla lunga quindi difficile questa uscita per Straniero che ci pianta una botta sulla corta un po' inaspettata questa scelta no inaspettata inaspettatissima anche perché non è il suo gioco secondo me ha tirato a romper perché sbagliando in giro prima può essere che l'ha sbagliato per il braccio freddo un po' di emozione e ha tirato più che altro per sbloccarsi Nicola perché non è proprio da Carmine proprio a questa scelta esatto 8 a 0 il parziale ancora non si è sbloccato Straniero vediamo se potrà riuscirci su questo sfaccio deve passare forse quasi niente in prima passata e filotto di seconda glielo puntare pure a prima passata però il pallino è suo amico il pallino è amico e come perché gli realizza 8 dopo aver fatto uno striscio abbastanza fortunato inizia un po' incerto però diciamo la Dea Bendata qui è stata tutta dalla sua parte sì è vero noi più che altro non è certo essendo che noi siamo giocatori Nicola quindi le capiamo certe cose un po' l'emozione un po' il braccio freddo partite corte vuole accaldare il braccio secondo me però deve stare molto attento che Agostino i regali non ne fa quando gioca infatti i regali non ne fa e come soprattutto su questo giro realizza il massimo che si può realizzare 10 punti e si porta ancora in vantaggio 18 a 11 qui ci sono varie scelte fisso no non giocare a tre sponde vediamo se il braccio l'ha sciolto dopo due tiri abbastanza potenti e questo pallino lo potrebbe anche invogliare a tirare un 5 sponde infatti guardi ha tirato le 5 bravissimo in ogni caso anche se ha sbagliato di poco però quella è la soluzione giusta sinceramente stavolta non è stato aiutato dalla Dea la fortuna che ha avuto prima ma in questo caso non l'ha avuta adesso perché l'aveva giocato giustamente leggermente sul largo addirittura è passato di fianco a quel pallino e non l'ha fatto traversino in finezza per Derrick Cardis altri 8 punti davvero bravo il pugliese che non ha riquadrato in difesa però questa distanza tra le biglie e soprattutto la vicinanza alla corta è quasi una mezza difesa la mezza difesa soprattutto perché non sta né sullo sfaccio né sul filotto quindi sulla stretta con la tua colla è sempre un tiro molto impegnativo però dalla sua c'è il 4 Nicola che sbagliando si può diciamo ti dice l'errore che devi fare insomma invece l'ha colpito al cuore questo guarda anche qui ha scelto ha tirato fuori una steccata bellissima ha fatto il minimo ha fatto il minimo veramente aspetta se avesse preso il pallino la copertura sarebbe stata diciamo però un po' più difficoltà ad Agostino le avrebbe dato no? vediamo se gioca una passata col pallino da 4 in appoggio la gioca dalla grossa per fare sempre il pallino da 4 la strada era la solita che faceva giocando una passata non riesce però ad aprire a sufficienza però sempre le tre passate e fa giocare sempre sotto sponda al suo avversario io purtroppo per il mio modo di essere questa biglia ha tutto effetto a palla piena non le tiri te le complichi un po' no perché io avrei giocato a dicrociare potevo beccare pure il 4 il pallino il pallino di ritorno esatto se proprio si decide di tirar fuori se no scegli una passata è chiaro e almeno 6 perché un birino del castello si porta via insomma no ma anche perché ti sto dicendo come ha tirato lui di un giro puoi passare solo una volta a palla piena tutto taglio puoi passare solo una volta dall'otto tirando di tre giri e mezzo di tre giri di passi due volte puoi passare due tre volte solo quello il fatto cerca una steola con un pallino da tre cammino di straniero non ci riesce si espone a questo traversino e qui di riccardi se questo pallino da 4 gli ha distolto l'obiettivo principale questo è davvero complicato la vita fisso ma sa perché perché lui giocando il traversino ad adagio poteva fare il pieno e dargli messa tutto all'avversario e molte volte il pallino diciamo siccome che è una cosa che attira tanto è tutta una partita corta 4 punti ma certe volte bisogna vorrei rinunciare al pallino e qui gioca un angolo straniero penso che si è inzuccata un attimino la biglia ma non c'è stato un bellissimo rumore in effetti alla fine due punti è una buona difesa si nonostante tutto ha fatto due punti è una bella difesa era bello anche come il sole del pallino da tre a incrociare anche se si risponde schiavò di lasciare uno sponso da pada col pallino d'arrivo però in una situazione di svantaggio ecco tu per esempio tu Gualemi Martinelli avreste tirato tutti il pallino da tre ma quello è pure diciamo ecco dove incidono le scuole no? no l'indole la scuola la scuola la scuola voi avreste tutti tirato il tre perché era troppo grosso e con una messa quasi sicura non parte ancora il braccio qui ha perso un po' il controllo non parte però tutto sommato ha lasciato un tiro difficoltoso fra parentesi sì nell'errore diciamo che è andato abbastanza bene in questo caso secondo me questo non qua tirerà il tre la scuola anche perché facendo il giro qua al capolavoro puoi fare quattro no gioca lo sfaccio ha fatto un doppio capolavoro favoloso gira dietro al pallino non lo realizza però realizza otto punti sul castello veramente pregevole questa conclusione di De Riccardis che si porta a 40 raddoppia il vantaggio 40 a 20 per De Riccardis pensate ha giocato lo sfaccio e parlo da quattro voleva giocare tre sponde o pallino da tre steve l'ha giocata veramente bene e l'ha giocata bene veramente schiaffo dalla corta per spondapalla dalla corta il fianchetto entra troppo entra troppo poco con 40 a 20 non puoi giocare quel titolo là anche perché c'hai una steola c'hai una steola quasi a rigore là poi dopo rimani sempre vicino a questo 4 e lui giocherà il 4 all'angolo qua normale basta spingerla ha giocato il l'americana e pallino da 4 e alla fine si è portato a casa questo pallino si lo mette a 44 comunque io non per giustificare le scelte no Nicola sbagliate o giuste anche perché vuoi il bigliardo è una cosa nostra molto intima certo però secondo me devi seguire soprattutto sulle partite così corte certi principi del bigliatto tu se stai indietro non puoi attaccare a meno che non sei a meno che non hai una sicurezza che poi questa cosa non ce l'ha nessuno totale del realizzo lui anche se avesse marcato lo schiaffo stava sempre sotto il pallino il pallino a 40 vale come un filotto a 20 sicuramente due punti due punti su questo schiaffo di effetto a tenere e qui vediamo se ha l'opportunità di vediamola dall'alto se ha l'opportunità eventualmente di un giro eh no guarda proprio la buca fisso mi sa che non ha a disposizione un giro eventualmente dovrà andare gioco forse dalla sponda corta giocherà un attaglio contro di di garuffa sulla corta la distribuzione delle forze è perfetta scava troppo l'entrata però davvero una bella distribuzione difesa centrale per per straniero andrà a un duomo di tre naturalmente per ricardis qui in questo caso pensavo che giocasse il duomo di tre dalla lunga opposta invece gioca da uno vedi la garuffa gioca la garuffa gioca la garuffa e qui io pensavo proprio fisso giocasse il duomo di tre per dare la forza del pallino ma anche io avrei giocato così anche perché a parte il doppio bersaglio a parte il tiro leggermente più facile lui ha rischiato una garuffa veramente brutta certo se li prende questa li fa dieci e le mette bene no no è ancora c'è da ruotarlo un po' questo braccio per straniero solo due punti due punti e sotto di sfaggio o stretta i passi giochi lo sfaccio lo gioca anche molto bene rischia rimpallo scambia bene non ha rimpallato solo perché ha giocato tre giri e poco cose se avesse giocato tre giri e mezzo prendeva rimpallo terza passata questa una chicca segnatevela quando si gioca a trasporto se si diminuisce la forza è più facile scambiare il ripallo il passaggio quindi passa prima la buona giusto e poi passa l'avversario e qui è una steccata un po' di frustrazione per Carmine straniero che l'ha lasciata andare ormai il 7 se n'è andato perché 54-22 tutte tutte queste pallate che sta giocando Carmine mi sono veramente strane perché è un giocatore molto quadrato anche se essendo una prima categoria diciamo mi sorprende un attimino dai perché non è non è il suo modo di giocare a biglietto lui soprattutto parte sempre prima dalla rinuncia e dalla difesa non lo so se si vuole sbloccare se se è contratto e qui il primo evidente set point per De Riccardi che si appoggerà al pallino da 4 conoscendo bene De Riccardi si chiuderà la partita 54 il pallino da 4 il 4 non se lo fa lasciare proprio e dopo è difficile che possa succedere qualcosa di catastrofico a questo punteggio 54-58-22 con la sua biglia ben vicina al pallino eppure ti dico io come te Pedro il biliardo il biliardo siccome che il commentatore lo facevi tu a Cosenza 59-4 e 22 io e io gioco moisteola terribile a quella partita sono arrivato a 47 e se non ti fa quel 2 a 1 di 3 con il rimpallino per mettermi di centrare rischia di perdere la partita se me lo ricordo bene un angolo di misurissimo a rosso e ci stanno tutti i piriti bravo quindi a biliardo non si può mai dire esatto io soprattutto lo interpreto così sì anche perché a dar la vinta siamo sempre siamo sempre a tempo quindi tanto vale rimanere sul biliardo no ma più che altro Nicolamo sinceramente io la penso che mischiando una partita non sia rispetto per il giocatore perché il giocatore ci tiene pure praticamente a tirare l'ultimo tiro di chiusura sono d'accordissimo con te e quindi non vedo perché una partita 56-10 o a 0 o 58-0 l'avversario la mischia non lo trovo corretto io il dispetto nei confronti dell'avversario certo Rizza con totale facilità il pallino da 3 su questa candela d'effetto De Riccadis si aggiudica il primo set cioè il primo set che non ha avuto molto storia solo in 15 minuti vediamo vediamo se Carmine Straniero saprà un po' reagire dal da questo brutto primo set certo Antonio De Riccadis ha fatto quello che doveva fare purtroppo non abbiamo visto un avversario che gli ha saputo controbattere Agostino Nicola De Riccadis siccome tutti conosciamo molto Antonio giusto per precisare piccolo no io penso conoscendo Carmine che la reazione ci sarà sicuro che ci sarà intanto io volgo l'occasione per salutare gli amici di Castelvetrano il presidente Jim e Andrea Bonura che si stanno praticando diciamo e più per far sì che arrivi il biliardo a certi livelli a Castelvetrano in bocca al lupo e un augurio per la vostra gara mi unisco all'imbucca al lupo di fisso vediamo se riesce a salvarsi De Riccadis su questo 2 a mod di 3 vediamo se dove va a finire questa biglia bianca se va accanto al birillo eh no non si salva non si salva ecco secondo me questo è il tiro per sapere già quello che possiamo dire pure noi dipende da quello che farà Carmine perché qua se li prende il 10 il 13 può fare pure 11 di scambetto ora vediamo qui fisso se io la stretta io giocherò la stretta ti accomodi con la tua biglia vicino alla buca bravo no ma anche a sbagliarlo un pelino puoi prendere il filotto di seconda no oppure anche di terza addirittura ecco questo secondo me era il tiro per capire un po' per capire lo stato di forma di Carmine direi che se il buongiorno si vede al mattino non è un bel buongiorno soprattutto a pagare 6 su un tiro che puoi fare 11 e l'avversario giocherà qua di una passata perché lo conosco troppo bene se le la fa lo mette in guai seri alla fine fa fa un bel punteggio perché 5 e 6 sono un punteggio più che rispettabile si che ruffa per straniero però per per vedere per vedere Carmine sinceramente così essendo che è un giocatore molto attento non strafa sul bigliotto però è molto continuo capito entra poco su questa garuffa angolo a scendere è stata anche dalla posizione del pallino ma pensate se la lascia stare di fare il 4 e garuffa e si stanno mettendo male le cose per Carmine mi dispiace però intanto vorrei salutare un nostro grandissimo tifoso che ci segue senza senza sosta e un buon appetito a Hermes Mercandelli con cui lo saluto calorosamente anch'io e ci ho fatto un commento mi ricorda il mondiale di Milano abbiamo fatto prima un commento a tre e io te lui e poi anche un commento da solo e se l'acqua abbastanza bene abbastanza bene Hermes davvero grande Hermes io guarda dato che siamo possiamo un attimino disimpegnarci sui saluti saluto calorosamente un signore a cui faccio una piccola pubblicità che sta deliziando un po' tutto il popolo facebook con qualche tiro distribizione tu lo conoscerai benissimo Odino Crepato saluto anche io Odino che sta facendo divertire la gente vero ha fatto un dvd che è veramente delizioso ha raccolto un po' tutte le sue chicche che sono davvero tante e quindi gli auguro davvero buona fortuna e vi consiglio davvero di acquistarlo sì anch'io anche perché c'è diciamo un biliardo è un biliardo sotto certi punti di vista che si assomiglia molto alla mia genialità fantasia come dicono è spaziale veramente faccio certi diri che gli devo fare i complimenti di cuore Odino e poi dopo faccio anche una piccola pubblicità per un libro che è uscito da poco Pietro Rezzubani e Fabio Bardon ce ne hanno regalato una copia a me e a Gianluca penso che una copia l'avranno regalata anche a te te la deve consegnare il direttore di Gaia esatto l'ho visto però sicuramente avrò modo di leggerlo le sfumature di un colpo di stecca quindi davvero facciamo un grande augurio e sono tutte iniziative che fanno del bene a bigliardo per avvicinare la gente al nostro meraviglioso sport meraviglioso secondo me è riduttivo le volte non ci sono aggettivi noi siamo di parte sembra praticamente che sta mettendo in ha smenzato prima bene su una caruffa gli ha fatto 4 di angolo di precolla vediamo non perché io tengo che ci io ci tengo che vediamo e vedano un bel bigliardo certo stretta di Carmine dai 15 a 8 vediamo se Carmine riesce a pungere su questa stretta solo due punti poi le biglie portate bene però è il minimo sindacale alla fine fisso su questa stretta e poi non è stato ma diciamo fortunato con la forza che gli ha si è messo di fianco al pallino tanto però da perdere non da fare una steola per questo striscio il corridoio si è aperto riguarda un po' questo corridoio come lo sfrutta tre birilli di fianco sono più che un segnale no è un avvertimento pericolosissimo per l'avversario quello non segnale però se vogliamo dai Agostino sta giocando molto certo sicuramente piano merito ad Agostino Riccardi fino ad adesso è giusto quello che sta succedendo no qui la combina grossa Carmine ma forse avrà steccato perché sulla lunga a taglio contro di Garufa non so dei meccanismi che non so che non che cosa ha potuto succedere secondo me ha steccato può darsi sicuramente 27 a 10 fino ad ora non è pervenuto sul biliardo sul biliardo Carmine straniero assente veramente e continua a macinare il gioco di Riccardi sta giocando un bel biliardo veramente di Riccardi si si poi dopo chiaramente giocato anche sul velluto perché quando si gioca sul velluto come dici anche i gatti diventano tigri esatto questa te la rubo sul velluto tutti sono forti e pericolosissimi striscione per straniero che si sposta con la sua biglia che lo realizza di prima quindi gioco forza si sposta rizza 8 punti non difende lascia un'altra conclusione frontale a a dericardis 37 a 18 questa la gioca dalla grossa a far passare prima la buona si e la presa ancora e la gioca anche molto bene filotto di seconda ecco questi sono praticamente i tiri che quando li vedo io mi si giocavano completamente diversi si giocava la passatella di un giro adesso vedi lunga lunga centro perché c'è perché c'è qualche maestro che l'ha insegnato però sono contento lo stesso dell'evoluzione e progredimento che ha avuto il bigliotto dai muoio indipendentemente io ti dirò ho visto di recente ho visto dei filmati di quando ai tempi di Telepiu 92 93 94 quando io giocavo tu eri già un pezzettino avanti sulle biglie frontali però tutta l'evoluzione tutta la scuola alla fine ti sembravano delle gran partite perché era il massimo di gioco espresso a quei tempi però adesso sembrano giocatori che giocano male nel 94 c'è stata proprio l'evoluzione in questi 20 22 anni il livello è salito a livello stratosferico sono d'accordissimo con te cioè una volta che avevi realizzato 10 anche se non avevi messo a posto dicevi fantastico tiro esatto ora invece c'è proprio la conduzione di giocare le due biglie di sapere esattamente che percorso fa le tue biglie se fa tre lunghe se ne fa due adesso c'è uno studio c'è un'evoluzione anche dello studio del gioco del bigliardo il progresso come è arrivato su tutto è arrivato anche nel bigliardo infatti se noi vediamo partite del 90 88 89 dove si parlava praticamente senza nulla togliere leggendo come Gomez come Cifalà però era un gioco visivo sicuramente c'erano anche gli strumenti peggiori i tavoli erano peggiori c'è stata un'evoluzione oltretutto anche della strumentazione intorno al bigliardo però alla fine quando c'era la finale del 1985 tra Gomez Cifalà quello era il massimo del bigliardo mondiale che a quel modo non si giocava gli altri mi immagino che il livello ancora più però c'è stata l'evoluzione delle stecche l'evoluzione dei tavoli l'evoluzione delle biglie tutto l'evoluzione della scuola però la massima espressione era quella è vero se la stanno incominciando a giocare la partita 4 punti su questa garuffa si appoggia a pallino da 4 straniero 26 a 47 qua De Riccardi si farà un 3 sicuro di appoggio sul pallino aveva questa diagonale scritta e questo appoggio davvero favorevole si la gialla andava a gioco forza sul castello ne realizza 7 ma sai sul bigliardo nuovo 47 26 ci sta pure chi la prende all'interno la biglia ha fatto lui un capolavoro perché io avrei giocato il 3 ad appoggiarmi 50 26 si 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 visto proprio questa strada che gli sembrava disegnata anche perché se no se non ti sembra di vederla già fatta non la firi traversino per straniero di prima intenzione ma sotto si lascia sempre quando arrivi a 50 e sei sotto al pallino un po' praticamente di cominci a moltificare che secondo me il caso si giocherà un giro è parola da 4 è orientato al giro no traversino ha giocato fa 11 e fa 2 a 0 non c'è una piega su questo 2 a 0 sì in effetti davvero meritato anche perché ha chiesto la pausa non penso che dal regolamento possa fare pausa lo può fare dopo la terza partita infatti l'arbitro non gliela concede giustamente non gliela concede non so se dal regolamento se l'avversario è d'accordo con lui magari però penso che proprio non sia possibile fare pausa penso che guarda adesso c'è un attimino di pausa perché Fusca va a chiedere un attimo al direttore di gara se può concedere un break comunque davvero niente da dire su questo 2 a 0 Agostino De Ricardis perfetto adesso Carmine Straniero anche perché ha sbagliato niente quindi Carmine Straniero veramente purtroppo dobbiamo dire in grave difficoltà in grave difficoltà sì il secondo set si è concluso in solo 13 minuti tu fisso domani giocherai qua o giocherai alla sala? no io giocherò alla sala giocherò alla sala perché hanno suddiviso secondo me organizzatori e sponsor come giustamente sia due gironi di là e due gironi di qua quindi io sei capitato nel girone della sala ricordiamo che c'è una sala d'appoggio la sala dove ci sono i Max Landis che colgo l'occasione per salutare una persona veramente meravigliosa Giovanni Giulio io li conosco da sempre e quindi si prodigano e poi sono veramente persone meravigliose si c'è questa sala d'appoggio sono posizionati sei tavoli qua e sei tavoli alla sala biliardi di Max Landis per effettuare per svolgere tutte le batterie che sono state davvero molte adesso non ho il numero esatto io non ho devi scusarmi Nicola ma non so quanti iscritti ci sono stati eh ti dirò mi cogli un po' impreparato anche me però circa alla fine un 60 batterie penso 60 batterie di circa 500 giocatori si meno male si è da sempre un bel risultato avere praticamente delle manifestazioni con tanti con tanti giocatori allora è stata concessa alla fine la pausa quindi per circa due minuti andiamo in pausa anche noi anzi guarda visto che ci siamo fisso diciamo un po' i vincitori delle batterie i giocatori che vedremo impegnati parto dai master abbiamo visto Di Santo abbiamo visto ha toccato l'unica batteria dove ieri ci sono stato malissimo per il mio amico Lorenzo perché sinceramente nonostante i sacrifici la febba a 40 ha lottato diciamo come un leone vinceva a 2 a 0 e mi dispiace di cuore che ha perso 3 a 2 dai però lui tranquillo e sereno tra l'altro l'ho visto giocare nella partita precedente ha giocato veramente bene ora non mi ricordo il suo avversario si si giocava con Pizzi Tommaso Pizzi esatto con Pizzi ha vinto mi sembra alla bella perdeva 2 a 1 ha vinto poi 3 a 2 si si poi non ce l'ha fatta con Di Santo vinceva 2 a 0 è andato a perdere 3 a 2 nomi importanti il master Gambino Salvatore appunto Di Santo Davide poi un ritorno Masciarenzo che l'anno scorso militava nella categoria nazionale che è retrocesso si ritrova a fare le qualificazioni lo potete scrivere sul canale 2 contro un altro master il giovane Vittorio Di Capua abbiamo Chicca Fabio che era da un po' che non lo vedevo io da un po' diciamo di più da un po' da un po' d'anni che non si vedeva un bravo giocatore un bravissimo ragazzo dai veramente sì che mi sembra lui è di Ancona no no lui è dalle parti di Roma ah dalle parti di Roma è vero si sembra aspetta non vorrei sbagliarmi ma è stato talmente tanto fuori che sì è vero ce ne scordiamo poi abbiamo Mallitti Fernando abbiamo Ciambrone poi abbiamo Malafronte eh Massimino Malafronte tutti giocatori molto eccellenti che un tempo dicevano la sua che poi un tempo fra parentesi che sono dieci anni più piccoli di me di conseguenza per ragioni che noi non sappiamo non hanno potuto più frequentare il bigliardo tour no abbiamo Massimo Di Mola poi un abbiamo io ieri personalmente ho il mio l'ho spento prima abbiamo anche Daniele Montereali che io ieri l'ho visto vincere una partita nella finale di batteria con Chille veramente all'ultimo tiro e ha conquistato appunto la qualificazione oggi e giocherà con il vincente di D'Agostino Pasquale e Ciammella nel frattempo è riniziato il terzo set dopo la pausa abbastanza inusiale concessa a Carmine Straniero schiaffo per Agostino De Riccardis dalla corta anche questo ben giocato due punti e difesa diagonale subito vita dura per Straniero fin dall'inizio con la speranza che Carmine la pausa gli sia stata di buon auspicio perché ma non perché diriamo per lui ma soprattutto perché non finisca sia per i telespettatori per noi e per il divertimento una partita che non c'è stata proprio no? Sì però che molti meriti davvero Agostino che per ora l'ha interpretata davvero bene questa questa partita ecco no giro largo e qui sembra guarda il film della partita prima la prima occasione per per Carmine Straniero e vediamo se riesce a pungere fino adesso non ha avuto una buona una buona suerte su queste conclusioni che qui due giocavo bene due di qualità però in questi frangenti serve pungere serve fare male all'avversario non avvertirlo ma avviene sono due punti che portano in dota un'ottima difesa centrale ma ma chiaramente Agostino ma soprattutto con un giocatore che gioca molto bene di calcio in questi frangenti deve approfittarne poi se la sorte ti aiuta un attimino a mettergli le biglie storte si disimpegna abbastanza bene con una buona forza di Riccardi anche se non ha preso una porzione ottimale lascia questa conclusione che si deve guadagnare Carmine giro fisso o girone c'è o girone e lo fa largo fa tanto largo vediamo se prende la corta in sesta sponda prende la corta e lascia un angolo abbastanza gevole se avesse preso la lunga già era mezzo salvato però lasciava lo stesso un trapezino però lo doveva lavorare certo non abbastanza comodo come questo angolo che però aveva le sue insidie questo angolo secondo me l'ha giocato troppo molle con il braccio poi ti spiego cosa vuol dire deve uscire più rapido esatto con la rapidanza del braccio la faceva allungare la biglia invece lui ha giocato troppo molle si è l'ultima steccata che deve uscire l'ultimo brandeggio che deve uscire veloce sulla palla e lì ti aiuta ad allargare questo angolo che era impostato stretto lui invece praticamente l'ha allungato leggermente di più invece doveva trattenerlo con più forza quindi ha fatto viaggiare più la sua biglia e non ha dato rapidità all'altro quindi piccola chicca tecnica di fisso che chiaramente ci aiuta per capire meglio questi aspetti tecnici che sono davvero importanti per tutti gli appassionati Val 2 e qui si salva egregiamente Agostino De Riccardis difesa centrale e è difficile attaccarla anche di Garuffa anzi se la si prende di Garuffa si va a impattare il palino da 3 e si lascia una conclusione frontale abbastanza comoda e in questa situazione poi si sbaglia sempre tutto lui gioca di taglio buono io giocherei a taglio buono giocherei di 4 per le 3 no? in effetti alla fine c'è il solito rischio certo però ha lasciato abbastanza scomodo e avvicinato la sua biglia alla sponda lunga e vicina all'intersezione delle sponde qui De Riccardi si motivamente deve montare sul bigliardo per giocare uno schiaffo uno schiaffo dalla corsa e mi sembra che no non ci monta essendo destro preferisce il lungo boh all'oggio che era il 4 a scappare alla fine vedi se ne è accorto dice tanto vale se devo giocare lo schiaffo di tirare con la mia monterà con la gamba destra sul tavolo con il ginocchio mo sta pensando se giocare il 4 o giocare lo schiaffo addirittura non importa neanche che ci monti è veramente veramente comodo vediamo gioca il giro volante ha giocato tre sponde e pallone da 4 e passa vicino all'uno e all'altro però è una conclusione che io non non mi piace molto tu a te piace manco io ho giocato o io giocavo lo schiaffo o il 4 perché il doppio bersaglio la a parte che era difficile se prendi un pelo di rimpallo paghi subito con le tue le tre sponde esatto giocare sicuramente un giro ma anche a non farlo il 4 con il pallino ti rendeva praticamente una copertura di ferro no si ti può cancellare un eventuale scaffo o un eventuale bricola è chiaro però alla fine non è andata qualcosa in male perché questa falsa qualificazione che straniero non può attaccare ma con la sua vicino alla buca e non è mai un grande affare all'italiana se non si è sicuri di fare una difesa perfetta lascia molto in mente un calcio di striscio che di ricca ha giocato sempre molto bene in questa partita e continua a giocare sempre bene 4 punti difesa diagonale allora io sono dell'avviso che è un giocatore che gioca bene di calcio non li puoi mai cercare di mettere biglie in bocca sai perché perché se non li metti proprio in bocca subisci o lo schiaffo sponda biglie o lo schiaffo e paghi sempre tiro e poi dopo poi subire una serie perché non è mica facile uscire da questa posizione infatti non si salva Carmine Straniero adesso può battere un girone perché il pallino è costato sullo stretto oppure il giro gioca il 3 e qua li può fare pure la steola gioca 3 sponda e se prende i larghi del castello no 5 sponda si gioca al ciro era proprio impostato fisso questo e non la vedevo eh si si riusciva a vedere meglio la diagonale era proprio impostato il giro e il pallino era proprio sullo stretto quindi non c'entrava niente e l'ha giocato un'altra volta in maniera egregia Agostino de Riccardis sempre poi la forma di difesa migliore è mettere la sua attaccata alla lunga e quindi può solo scappare via non è attaccabile questa palla da straniero e quindi deve essere costretta ancora a subire 12 a 7 quando ti parlavo della serie che può subire dopo quello quell'incastrino si è questo adesso addirittura gioca questo striscio poi c'è lo sgambettino il pallino la parificazione sono tutte cose che si aggiungono e l'avversario che non può tirare 9 punti che fanno davvero male e qui giocherà una steola forse l'ha giocata dalla parte più difficile e dalla parte soprattutto dove si lascia gioco qui non molto lucido straniero è vero è vero non è molto lucido doveva giocare dalla parte opposta dall'altra parte giusto è qui proprio il 4 qua non può sfuggire e poi è dalla grossa il 4 e il roso è sul velluto davvero di Riccardi se due rossi 14 punti per lui e adesso il parziale si fa davvero davvero pesante pesante 35 a 10 Bricolla per straniero bene sul largo difesa occhiale però come si può dire le messe in tabella non si non si segnano anche se sono un buon viadotto per arrivare a una rimonta però non punge non ha mai punto in questi 3-7 Carmine straniero adesso vediamo se lo fa con questo sfaccio questa è un'occasione più che nitida vanno quasi a posto da sole fisso si intercetta il pallino da 3 realizza 7 punti che non è neanche fra parentesi mi sembra che abbia ceduto le armi si purtroppo io me ne accorgo dai movimenti di come camminano i giocatori il linguaggio del corpo bravissimo il linguaggio del corpo e allora magari a molti miei amici o allievi che mi dicono pisto ma perché quando giochi tu è impassibile non si sa mai se stai vincendo o se stai perdendo è perché è quello l'atteggiamento giusto è dare un grosso vantaggio all'avversario mostrargli praticamente che tu sei in difficoltà no? sì lì è sono è una cosa secondo me che uno ce l'ha anche un po' dritto però è una cosa su cui secondo te che si può lavorare fisso anche secondo me no io ti dico per chissà perché perché nel vedere molti dei nostri colleghi che non sono il top a vederli giocare oddio tutti teniamo pregi e difetti no? io ti dico che ne tengo 10.000 difetti però la soddisfazione di di dare praticamente alla gente o al mio avversario quello che io ho visto fare agli altri che odio non li adoro mai nessuno uno a me mi può fare praticamente 700.000 stregoneria no? la soddisfazione di sbattermi non li adoro mai capito? perché il bigliato le porta quelle cose là sì sì sicuramente sono completamente d'accordo con te eccoci qua è arrivato anche il nostro caro amico Gianluca che sarà impegnato alle 15.30 nella prima partita con Giuseppe Nicotina non giocherà non giocherà qua ma giocherà oh liscio primo errore in tutta la partita di Agostino Riccardi sta facendo il professionista il tuo collega si è alzato a luna no abbiamo preso il caffè ti assicuro che non abbiamo fatto gli occhi liberi ti assicuro che non abbiamo avete sbagliato albergo non abbiamo passato una bellissima nottata ma ci sta quando cambi abitudine per quelle che facciamo noi ci sta avere delle incomprensioni di questo tipo quindi era in meritato riposo dopo una nottata un po' curiosa ma guarda che se li fa questa qua 44 a 30 poi li può fare interessante che mette giù le billy a bere alla fine l'errore 8 li ha fatti 8 li vaga stavolta 2-4 punti sembrava davvero meglio questa conclusione comunque alla fine vedi non è tutto perso De Riccardis ha fatto un errore sull'unico tiro secondo me fatto bene dell'incontro della parte di Carmine Straniero quel raddrizzo alla fine gli ha messo un po' di pressione è caduto un errore Agostino De Riccardis adesso però gli trova questo pallino che ma io io qua non vedo la diagonale ma ce l'ha l'angolo il 4 vediamola dall'alto se riesce a avere questo angolo vediamola dall'alto se riusciamo a capire meglio credo di no lo deve giocare di scambio se lo gioca è fisso? si l'angolo deve giocare ma il 4 non c'è le 3 sponde non le vuoi giocare perché la sua si stuoppa la non passa l'angolo c'è anche a far passare prima la bianca? si alzando un po' la stecca frenando la tua creando l'angolo creandolo creandolo quindi a stecca alta a stecca alta di scambio non è non è non è possibile no no anche di scambio può venire però di mezzo colpo di misura io qua sai che cosa giocherei dimmi il pelissimo di palla a fargli 3 e la steola girare dietro a pallino ma è difficile questo tiro però alla fine si è accontentato ad un 4 è rimane forse abbondante di forza se si mette a colla non ha giocato male si è una bella scelta anche perché se fosse rimasto in difesa non sarebbe stato poi così facile attaccarla a De Riccardis qui si va a prendere questo pallino qui si mette abbastanza bene perché non ha a disposizione il traversino si si come no ce l'ha si si c'ha il traversino e il 4 pura ah vedendolo guarda no no c'ha il traversino e il 4 no ma no quasi così di misura non la poteva aprire mai non va tutto colpo 53 42 46 scusa rimpalla di Riccardis vediamo se realizza il pallino da 4 gli gira vicino gira dietro gira vicino anche col pallino da 3 e straniero ancora c'è c'è no la sua la poteva perché qua se gli fa lo striscio di misura sicuro che si metta un tiro e De Riccardi se poi c'era la dura per chiudere anche perché alla fine è un incontro che De Riccardi secondo me ha sbagliato un solo tiro ma secondo me ha avuto la presunzione che si può aver tutti in questo stato che aveva già vinto e se poi arrivi a perdere un 7 cambia tutto può succedere l'impossibile cioè quello che fino adesso non avevamo neanche pronosticato vero vero intanto qua lo striscio di misura Carmine glielo tira e qui deve giocare la biglia bianca vedi perché stava troppo facile 4 punti vedi vedi che significa da 4 a 6 che con 6 si metteva praticamente un tiro con 4 sta sempre un tiro però un tiro difficoltoso di parabola De Riccardi la prende di prima intenzione quindi lo schiaffo e qui sarà importante capire se vede un altro angolo se vede l'angolo è messo bene ma non penso non penso perché da quelle posizioni quando si prende la biglia così che differenza ma li può giocare a tre sponde smorsato Carmine li sa fare sti diri solamente il braccio è predisposto sotto stress vediamo dai la vedi la forza che gli ha dato partita un pelo più forte la devi giocare un pelo più piano più forte primo match point per Agostino De Riccardis di prima intenzione realizza 3-2-5 si mette a 58 e l'idea del biliardo gli vogliono ancora bene alla fine è vero riquadra anche difensivamente appoggiando la sua bilia molto vicina al pallino qui Carmine Staniaro molto in metà che qualora facesse un capolavoro non basta certo ha preso la miglior porzione che potesse prendere perché quella che l'allontana dal pallino ha preso la porzione per rimanere ancora in vita di parabola di parabola De Riccardis la cerca di 2 ha dato un occhio al punteggio Fugace al punteggio 58 46 vediamo se lo fa questo brillo e lo fa veramente bravo Agostino De Riccardis un po' ci dispiace perché non abbiamo visto la grinta che lo contraddistingue Carmine Straniero ma più che altro pure la reazione sul 2-1 avremmo potuto vedere una bella partita eh sì si poteva trasformare in una partita davvero avvincente che purtroppo non è stata in questi 3-7 allora noi vi diamo appuntamento per un'altra partita che ancora non sappiamo quale ci assegnerà il direttore di gara Rosalino Io fisso ti ringrazio per la tua disponibilità grazie a voi di venire sempre al commento non ti avevo visto mi hai chiamato tu quindi mi ha fatto davvero piacere che tu sia stato in nostra compagnia quindi se dopo vorrai è reciproco la cosa se dopo vorrai ritornare se sono libero più che volentieri anche perché noi siamo qua tanto ci stiamo tutto il giorno per offrire più ore di diretta possibile ai nostri telespettatori quindi è intanto una buona giornata a tutti quanti i nostri telespettatori da tutto lo staff di Bet Italy compreso Croceviso Maggio grazie fisso io vi invito a spostarvi sul canale 2 dove c'è in onda la partita tra Vittorio Di Capua e Renzo Mascia a più tardi ciao ciao